Un drone dei carabinieri nella terra dei fuochi per passare i raggi X dall'alto, le aree maggiormente a rischio dove vengono continuamente sversati e bruciati i rifiuti. Tra le province di Napoli e Caserta un occhio elettronico sorvolerà la zona con l'ausilio di speciali telecamere in grado di rivelare anche le variazioni di temperatura. Il nuovo mezzo è stato presentato ieri a Marano in provincia di Napoli. Per ora c'è in funzione una sola unità ma si conta di disporre presso di altri droni per controlli contemporanei su una più ampia superficie. Intanto la vigilanza dal cielo ha già prodotto risultati. A Somma Vesuviana è stata scoperta una discarica abusiva all'interno dell'area di un ex stabilimento industriale protetta da alti muri che con le normali verifiche dal suolo non sarebbe stato possibile notare. Ascoltiamo Erminio Denisco della sezione operazione e logistica del comando provinciale di Napoli e l'appuntato Marco Santarelli. È un valido ausilio che sicuramente ci consentirà di monitorare il territorio, di andare alla ricerca di eventuali nuovi siti di sversamento di deposito e laddove dovessero configurarsi e consumarsi dei reati. Anche in flagranza ci consente, grazie al pronto impiego delle pattuglie in affiancamento ai colleghi piloti del comparto forestale, ci consentirà di intervenire nell'immediato e di procedere all'arresto. Grazie a questo drone possiamo avvicinarci a delle aree per noi magari anche insospettabili o delle aree che non ci permettono di essere raggiunte facilmente sia a piedi sia con i mezzi in dotazione. Grazie a tutti.